Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele, da Michelangelo, eccolo qui, il mio gatto tigrato di tre anni, un europeo meraviglioso, ciao amore mio. Per questo nuovo appunto appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, uscita numero 37 delle 110 previste per il completamento di questo modello, un'edizione Centauria, il modello è in scala 1 a 8. La macchina ha vinto il relay di Monte Carlo nel 1984 con il pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore Christian. Il montaggio è molto semplice per chi avesse intenzione di fare una rappresentazione del modello non soltanto fino a se stessa ma con qualche scenografia se ad esempio come un treno di gomme può acquistare più numeri 37 perché la ruota è completa. Ovviamente mancano i dadi perché non viene montata però sapete che ne abbiamo montati quattro. Abbiamo montato quattro ruote quindi abbiamo quattro dadi ma il cerchio è da cinque dadi quindi ecco a parte che non serve neanche non serve neanche il dado perché se la ruota è smontata non vi preoccupate ragazzi fa tutto Michele si fa le sue teorie se le smonta perché non mi preparo niente e si vede. Allora quindi vi consigliavo di comprarvela qualora voleste appunto averne di più perché anche se costa 12 euro è completa. Troviamo una serie di viti AMM da avvitare nel metallo eccolo qua eccolo qua. Cominciamo umore. Questo insieme a questo è il perno e leva di bloccaggio della ruota io sono andato già ad avvitarmi i tre viti non serve usare il lubrificante perché il metallo è abbastanza tenero e quindi le viti si avvitano bene. Poi troviamo anche cinque adesivi che ci servono tutti e cinque. Speedline andremo appunto a metterli qui su una delle razze e ovviamente il pneumatico il cerchio interno. Avete visto che adesso nella Ferrari 330 P4 finalmente Centauri ha fatto anche la parte interna in metallo meno male. Allora la prima cosa che vado a fare è inserirmi questo perno all'interno del foro. Nelle istruzioni ci dicono di non farlo uscire dall'altra parte e si vede che lo hanno inserito se non ho visto male ecco esatto non lo hanno inserito fino in fondo però sinceramente io lo inserisco fino in fondo ecco qua lo faccio andare perfettamente a filo dietro non lo puoi mangiare queste di metallo amore mio ecco qui poi cosa ha preso le viti le viti vado a rimuovermi le tre viti ce l'ho io amore cosa cerchi vado ad applicarmi prima l'adesivo mi può aiutare sicuramente uno stuzzicadenti eccolo qui la lettera finale di speed line quindi la e deve andare verso la gomma vuole andare via il mio gatto vai amore ecco allora a guardare questa foto non è un non c'è un ordine per mettere l'adesivo in questa parte qui a sinistra la ruota posteriore destra uno scioglilingua quasi ho detto ce lo fa vedere posizionato così dopo la valvola qua invece ce lo fa vedere dopo la valvola ma da quest'altra parte qui decidete voi dove metterlo io comunque lo vado a posizionare qui prima della valvola e farò la stessa cosa su tutte e cinque le ruote sulle altre quattro rimanenti abbiamo detto che la e va verso il copertone lo mettiamo al centro lo teniamo staccato e prima di attaccarlo dappertutto lo adrezziamo ecco qui mi servirà anche come riferimento questa parte qui vedete deve essere al centro vi aiuta molto ecco vedete premete senza fare questo e la prima l'abbiamo messa io non vi farò vedere anche le altre quattro ruote perché è la stessa cosa come posso dirvi l'unica attenzione che io avrò è quella di smontare tutte le ruote e certamente non vado a posizionare questo adesivo sul modello con la ruota montata quindi questo abbiamo fatto adesso guardatevi il copertone prendete quello che ha la facciata più bella eccolo qui poi vi faccio notare una cosa se vi siete creati i filetti vi basterà girare il cacciavite al contrario non appena sentirete il dentino indicherà che la vite ha preso correttamente il filetto e potrete evitare senza correre alcun rischio di rovinare il filetto stesso avete sentito stringete forte senza però esagerare altrimenti romperete qui l'occhiolo di plastica poi fate mezzo giro indietro e stringete in maniera normale ma ricordatevi quando vi arriverà la prossima settimana numero 38 controllate sempre il serraggio di tutte le viti che avete montato nel numero precedente perfetto ecco qui adesso questo va posizionato poi qua all'interno del baule vendiamo il modello ecco qui saluto tutti i miei iscritti tutte le persone che mi visualizzano grazie ragazzi dai che sto arrivando a 5.000 iscritti aiutatemi condividete i video nei gruppi dedicati la scorsa settimana 25 o 27 condivisioni grazie a tutti iscrivetevi al canale attivate la campanella sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli non solo di auto e infine se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello mi contatti privatamente grazie guardate lo calzo attenzione a non toccare assolutamente ecco qui il mio guerra fondaglio che è tornato alla carica non toccata assolutamente il perno perché è di plastica ed è molto fragile è puramente estetico quindi agendo solo su questa parte qui più resistente lo faccio scendere ecco qui così lui si fa un po la sede inserisco tiro su ovviamente i cavi perché non vanno lasciati sotto e poi qui se guardate all'interno abbiamo queste mezze lune in corrispondenza delle viti che in realtà nella macchina vera serve per inserire la bussola e poter avvitare e svitare le ruote in maniera più agevole per lavorare in maniera perpendicolare diversamente avrebbe potuto lavorare così perché vi dico questo adesso vi faccio vedere spingete giù fate girare la ruota e lei si fermerà in una delle asole scegliete voi come volete presentare la scritta comunque il montaggio è terminato guardate che meraviglia parte del motore perché ci va altro materiale che andremo a montare man mano che chiaramente procederà la collezione è veramente un bellissimo modello adesso vi faccio vedere il cofano e il musetto dove saranno necessari dieci led per far funzionare tutto quello che vedete frecce comprese cosa fai stai fermo amore dieci occhi non bastano con michelangelo e il cofano dopo andrò a preparare il video della lancia stratos seguitemi anche quelle un modello che consiglio a tutti a tutti a tutti di fare ecco qui le targhette sono in alluminio avvitate un bel passo avanti da parte di centauria che se avete fatto così come me la lancia stratos avete visto che queste parti qui la placca del rally di monte carlo del 1976 queste 84 è adesiva però tende ad alzarsi sulla sul fianco sui lati qui queste invece sono avvitate quindi è una cosa molto positiva ci sono migliorati ed è giusto che sia così abbiamo la finta fibra di carbonio e qua abbiamo l'adesivo paracalore perché in corrispondenza di questa parte qui così come nella macchina di vera abbiamo la turbina credo di avervi detto tutto io vi ringrazio del vostro tempo un abbraccio a voi un saluto e un saluto a tutti i vostri cari più cari mi raccomando seguitemi perché michele cerca di andare avanti e cercherò anche di fare qualche abbonamento per mettere dei video particolari di modifica particolari che non siete assolutamente tenuti a fare perché il modello è bello lo stesso io sono pignolo ed è una deformazione che non è sempre bella anzi tutt'altro ciao a tutti e grazie sempre con tutto il cuore del vostro tempo al prossimo video Grazie a tutti